Eccoci qua sul sentiero della misericordia, guarda dove li abbiamo trovati l'altra volta ce n'è due piccoli, si l'ho visto anche qui guarda, allora uno qui uno qui uno qui, questi sono i buchi dell'altro giorno, uno qui però sono piccoli e poi andiamo a vedere che ne abbiamo visti un altro paio ecco sempre sul sentiero, ci mancherebbe, sotto una radice, eccolo lì, questo qua è raccoglibile a riuscirci, vado a filmare gli altri due questo l'ha trovato Ledo andiamo a vedere quello della nonna bello eccolo qua un po' più grandicello un po' più grandicello guarda ne abbiamo trovati un altro paio insieme a questo bellino dai, raccogli nonna te vai a tre alla volta sì ma c'hanno tre proprio piccoli peccato che sono così tutti piccoletti altrimenti meglio di niente ti dici vieni qua a raccogliere questo che non è poi così piccolo vieni qua a raccogliere questo che non è poi così piccolo è quello lì è quello lì l'altro cagnottino lì dai chiamalo piccolo sì sono piccoletti sì è anche più grosso però meglio di niente dai ci vedo ancora bene ragazzi questa riva scoscesa quella da cui l'anno scorso mi è volato l'iphone nuovo con io appresso per colpa di un porcino che quest'anno si è ripresentato regolarmente eccolo qua che bello guarda che è un grosso di sopra aspetta ma cacchio io raccolgo qua e lei eccolo qua che bello dove ma non l'avevo visto sono arrivato da lì ma te vuoi farmi volare anche quest'anno con questo telefono aspetta eh eccolo 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 qui ma non l'avevo visto bello che sono sceso da lì ma che pirla questa è indiretta appoggiato qua la roccia è un po' maturo ma è un fiorone va bene andiamo via da qua perché è pericoloso fai vedere che cappella che abbiamo trovato aveva un gambo in terra gigantesco ma ormai mangiato quello piccolo ecco la culla tacchione della nonna adesso ho trovato questo mostro con i due piccolini qua due piccolini e il mostro è un mostro questo bello cicciottone gambone gigante sono quelli fantastici sono quelli proprio di razza questi qui va bene non era finita non era finita la nonna ne ha trovato un altro a tre metri sempre di quella razza qua canina bellissimo ma che bello ma che bello to nonna anche se c'ha la testa mangiata che bastardi e ledo ne ha visto anche lui uno questo ha preso l'aria questo chiama acqua questo ha la grande anche in che stato poverino ho trovati altri due su questa costa e adesso ledo altri tre dai si è rotto porca miseria come mai il tema era ancoratissimo che sfortuna questo che è cresciuto sdraiato bello questo e questo anche questo qua c'è su perchè